Secondo quanto riferito, il duca e la duchessa del Sussex avrebbero ricevuto un invito all'evento ospitato dal re all'inizio della settimana che ora è stato ritirato, il principe Harry e la moglie Meghan Markle sembrano essere stati non invitati da un evento ospitato da re Carlo e Camilla, regina consorte, a Buckingham Palace domenica sera. Il ricevimento di Stato si terrà a Buckingham Palace per un certo numero di leader mondiali e reali stranieri, ma secondo il Telegraph è improbabile che la coppia partecipi poiché i funzionari del palazzo affermano che il grande evento è per i membri dello studio. Non è chiaro il motivo per cui la coppia inizialmente ha ricevuto un invito se l'evento è riservato ai membri che lavorano della famiglia reale poiché la coppia si è dimessa dalle loro funzioni ufficiali nel marzo 2020. Secondo quanto riferito, gli assistenti di palazzo hanno insistito sul fatto che la coppia non fosse stata invitata all'evento, mentre le fonti a loro vicine sarebbero sconcertante. Joe Biden, il presidente degli Stati Uniti, ed Emmanuel Macron, il presidente francese, saranno tra le centinaia di capi di Stato che saranno accolte a Londra alla vigilia del funerale della regina Elisabetta II. Giacomo 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 E No, no, no No, 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 no